Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento SuperGuys live molto breve durerà un'oretta, non più di più andiamo subito con la prima partita, se la vinciamo se la vinciamo, siamo tutti più felici dicono che siamo tutti più felici se si vince, se si vince se si vince, siamo tutti più felici prendo un attimo la cosa per collocare il profilo qui c'avevo il volume, neanche me ne ero accorto prima però faccio così faccio prima una partita vabbè faccio prima una partita prima faccio una partita e poi e poi vado ok il mio dio non ci credo magari faccio un balzo ma ci spero troppo ci sto sperando troppo di fare il balzo non lo faccio ora segnalo ok si fa anche un bel balzo eh vabbè ok devo aspettare che medica si medica ecco bella notte però porca miseria basta madonna ciao nebio oh mio dio no madonna mia oh mio dio ok buonasera nebio buonasera buonasera bentornato ho un attimo solo e sono un attimo qui in preta al panico perché non 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 vinco oggi se ne vince una ma che io ci spero sempre ma qua qua penso che non vinco qua faccio un attimo play intanto qua cerco cose per fare l'accesso eccola qua ho trovato le cose per fare l'accesso poi faccio l'accesso mamma mia io provo a vincere ma non ne vinco neanche una neanche una neanche una io ho tutta la calma del mondo oggi ho sono molto calmo perché ho mangiato abbondantemente però è davvero difficile io non so più che fare non so più che fare sto cercando di non bestemmiare però ora oggi non mi sento neanche di bestemmiare oggi mi sento tranquillo quindi ho mangiato tanto 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 un vassoio ho fatto un pranzo quindi prima di fare sta dietro sono molto calmo perché qua io quando faccio dietro sono molto calmo ho fame non sono nervoso invece adesso va bene comunque dura poco un'oretta un'oretta così poi cambio il titolo la carta igienica la devo ancora comprare quindi non posso mettermi la carta igienica in testa oggi ma lo farò un'altra volta o no eh madonna che bot almeno qua mi cerco di qualificarmi perché sennò sarebbe davvero un'umiliazione un'umiliazione assurda e si salto easy salto easy salto easy salto easy salto e si va 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 non si salto se no si muore caldo ovviamente perché sono grasso qua c'è un assemblamento di hippie e di curry e di matti in generale e quasi qualifica ovviamente ci si qualifica dopo però mi devo un attimo prendere qualche minuto avessi andato io lo posso discutere tra me di scoperto pallo gaming 3 6 6 o cazzo ok ora ci sono cazzo sono impazzito per un attimo ok ho già morto bravo sono andato nel punto più difficile di tutti porca miseria miseria l'altra miseria l'altra no oggi se non appena vinco comunque io chiudo appena vico se vinco ma impossibile che in un ora vinta troppe se vinco se vinco chiudo anche se non c'è perché perché io quando davvero 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 qua siamo messo male impazzito nello sogno la notte questo gioco giuro sognato la notte tra breaking bad e questo gioco sto sognando o questo o breaking bad io che produco e vabbè non dirlo in live quindi comunque tanta roba ma a parte che scuola che cazzo spingi foruncolo cosa vuole sto foruncolo visto di ma chi ti ma chi ti ha insegnato l'educazione ma chi ti ha insegnato l'educazione spero che muori di cancro mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio dall'augurio 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 scusate non lo farò mai più giuro non lo farò mai più mai più mi scuso mi scuso mi scuso mi scuso mi scuso scusate scusate solo di stare poco bene di tosse ok va tutto bene allora andiamo andiamo abbassati qualificato io giuro che farò una live con una festa con una torta con tutto dove festeggio la mia prima vittoria sarà una live una festa un video una collaborazione un ringraziamento un avvocato un tribunale Gesù la madonna il prete Don Gino Don Mario Don Alberto Don Marco il mio computer rotto il mio gatto mia mamma mia nonna mio nonno tutti farò una mega festa appena vinco con tutte queste persone le inviterò tutte faremo una mega festa i miei amici 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 tutti 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 porca miseria l'altro miseria l'altro questo gioco no miseria l'altro no miseria l'altro porca di quella miseria porca miseria non posso fare questo gioco porca miseria l'altro miseria l'altro miseria l'altro non posso fare questo gioco col catarro poi madonna io non prendo quella strada là qua me la faccio piano piano easy easy piano easy piano me la faccio piano me la faccio pian 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 pianino vai non ci credo porca miseria porca miseria stavolta questo qua è un insulto un insulto ma perché questi figli di puttana spingono capito figli di puttana c'hanno la madre che poverina lavora in strada troppo purtroppo la fanno lavorare troppo in strada questi figli di puttana no veramente no veramente no veramente no veramente qua si va male qua si finisce male questi qui c'hanno la madre che proprio si diverte ma poi si diverte gode la madre non lo fa come lavoro lo fa come hobby madonna che nervoso che nervoso chiudo ah è già chiusa no veramente quella vergogna questa è una vergogna no no come fa come fa come fa ciò ti davete davete io mi calmo io mi calmo io mi calmo io mi calmo ora mi calmo non sono un attimo in me in questo momento non sono in me non sono in me non sono in me basta 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 torna in me torna in me torna in me basta 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 qua ci sono varie porte penso di conoscere comunque la soluzione secondo me infatti e sta porta qua si addentra la soluzione è che ti ho detto la spaccata lui ma era questa alla fine la porta qui no o lì 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 ci sono un po di assieme ci sono dei dinosauri dei gruppi che mi stanno cartestando molto bene o mio dio mi sembra come si ammazzano tutti per divertirsi ecco qua sfatano la porta per me ma come si ammassano tutto questo qui questa prima mamma mia si ammazzano tutti sembrano degli animali proprio sembrano dei veri e propri animali questo gioco mi ricorda molto un programma su bond chiamato Takeshi's cast e lo guardavo sempre quando ero piccolo qualificato e la prima è fatta ne mancano ancora un bel po ma noi sono sono diciamo sul 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 propenso di riuscire a vincere sono convinto e sono sicuro al cento per cento oggi è la volta buona va bene va bene ma che cavolo si è fermato il tempo si è fermato il tempo ma no madonna guarda che è ingordi 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 è l'odio e non passate siete degli ingordi Cristo Dio caro siete degli ingordi degli ingordi proprio non c'è altro termine più giusto che ingordi per descriverli scuba cazzo eh ci provo ci provo ma qua ci sono veramente degli ingordi rapa di maes e ci sono giocami insieme su fall con mio cugino si nevio a me sta pure bene però qua c'è della gente che è proprio ingorda 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 sono degli ingordi si assemblano tutti lì vogliono passare questa è veramente messi male questo gioco purtroppo qua queste cose influenzano le persone le canzoni la trap shiva da supreme tutti questi personaggi influenzano anche il gioco perché tutti si assemblano e creano ingurgia io dico che questa è proprio una vergogna assoluta il fatto che tutte queste persone crevano dei contenuti che causano questo su fall guys la colpa sul fatto che su fall guys ci sia gente che si assemblano tutti in un punto è colpa di cantanti come shiva e da supreme quindi purtroppo loro causano questi ingordi guarda che ingordo causano maledetti allora passo qui questo va qui passo qui questo va qui e passo qui ok ti credo che questo round fossero a eliminazione piuttosto che a qui devo tipo aspettare ora 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 ti prego ti prego ti prego ti prego porca miseria io odio questo gioco odio tutti odio soprattutto questi giocatori del cazzo questi bambini che stanno qui a divertirsi porco due maledetti 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 è tutta colpa vostra non so se avete porco dio porco dio porco dio ma ora le inizio a dire no ora le inizio a dire non è colpa del gioco il gioco è fatto bene sono i giocatori che sono delle teste di cazzo porco dio ma veramente ma come cazzo si fa da sembrare così quei furli di merda quella skin del lupo dio buono io spero che la levino io spero che la levino quella cazzo di skin del lupo porca miseria io spero che la levino giuro giuro io spero che la levino quella skin del lupo mi da un nervoso che voi neanche vi immaginate guarda neanche vi immaginate il nervoso che mi da quella skin con lupo porca miseria io vorrei andare a casa di quello con la skin con lupo guarda guarda veramente che nervoso mi devo calmare mi devo calmare mi devo calmare sennò sveglio tutti il gatto si è già spaventato poverino è andato nell'angolo poverino devo calmarmi devo calmarmi devo calmarmi devo calmarmi devo calmarmi perché così so che non si va avanti che non si conclude nulla dato un'ora poi basta io levo le tende e basta ok ci calmiamo ci calmiamo ci calmiamo tutto a posto tutto a posto è successo nulla è successo nulla tutto a posto tutto a posto tutto a posto tutto a posto vado qua vado qua tranquillamente si va bene sembratevi tutti bravi 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 ero molto intelligente ah si va bene va benissimo va benissimo va benissimo va benissimo non mi estime più non mi estime più non mi estime più ecco palo di merda andiamo avanti andiamo avanti ok le palle va bene le palle le palle guarda questo scorbo blu anche questo po di labbia ti possiamo invitare nel party certo certo va benissimo va benissimo un attimo solo che finisco questa partita e poi entro porco dio sta palla porco dio sta palla porco di porca qualificato molto bene molto bene è lupo succhia lo lupo maledetto sia questa skin del lupo ok ora entro nel party buonasera buonasera a tutti mamma mia questo gioco mamma mia questo gioco mamma mia assurdo assurdo non ho mai visto nulla di così tremendo è facile per me è facile anche per gli altri vabbè io un attimo intanto devo finire se voi potete farvene una intanto se volete mamma mia io non so come fa la gente a fare 200 vittorie mamma mia assurdo c'è l'aiuto divino di mezzo io lo bestemmio invece loro lo pregano così lo aiuto oppure pregano il diavolo magari il diavolo che divento satanista niente qua ovviamente non si fa sembrare semmai io ci provo però qua veramente lo guarda ma porco sì vabbè dai non è colpa del gioco è colpa dei giocatori che si assemblano è colpa loro ma voi avete già vinto e beh sì è onesto comunque e vabbè però è onesto no però poi accetto poi accetto due volte qualificato miracolo ok mi chiamo rapallo 2000 eh no è rapallo gaming chan oh no il gioco della coda prevedo bestemmia prevedo bestemmia almeno 578 il fatto è che gli altri te la prendono wireless ma è già sto tucano eh guardate questo ladro no no che cazzo maledetto sto tucano ma vai va tucano cazzo ma questo tucano di merda ma non se ne può andare un po' con il paio ma roba cosa oh 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 godo no porco dio ridammi la coda madonna ladro ma dio cane sto scorvio arancione ma che cazzo vuole porco dio porco dio god godo ecco maledetto maledetto no no porco no 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 prego ti prego Dio ma non è possibile madonna ladra vaffanculo porco dio ma guarda se devo perdere per sto stronzo tucano di merda Dio cane ma porca madonna vaffanculo a sti tucani Dio cristo maledetto signore io spero che i tucani si estinguano guarda veramente non ho parole non ho parole Voi siete in partita Devo rinvitare Vabbè sì per favore Niente tucani e mi raccomando perché sennò Non ho capito ma qualsiasi uno di voi vince dalla vittoria a tutti Ok Ah quindi No 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 rispetto non serve Ok 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 Avete vinto agli esagoni sempre Ecco le code quelle più fattibili infatti Infatti le code Ma gli altri sono impossibili Ma gli altri sono impossibili Ok Dai qua ci qualifichiamo tutti Ok Ma proviamo Non so Non so Ok Non so Ma guarda vedi by sembramenti va qualificato qua tutti qua tutti se quante volte l'ho fatto a 100 volte va bene tre volte che ho perso ma non pensarci speriamo non un gioco a squadre se no perdiamo stessamente in carlo bravo è vero la squadra fa pena va bene questo ci sta no ma se poi tu perdi perché la gente lì non gliene frega niente dice un certo signore sapeva che cosa fare nessuno inizia per h a che fare vabbè lasciamo stare con i bandani non 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 Oh le sa tutte quello Quello che è il primo Ah no ora ho sbagliato Ora ho sbagliato Oh madonna Veramente Sì vabbè però la gente No perché cazzo Ma perché fanno sti assembramenti Forse Siamo qualificati tutti Oh bene bene Sì sì Adesso in teoria il gioco di super No forse survival No 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 Bravo e hai il tronco anche Cattivo il tronco ti butta all'inizio Oh madonna Oh madonna Madonna l'ho presa Qualificat 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 Rip Mi spiace Poi c'è un survival Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Guarda voglio scommettere in che team Rosso Ah beh vabbè Vabbè sì perché voi avete due vittorie Quindi in teoria No Eh vabbè No No Oh qua c'è uno Porca miseria l'ha rubato lui No No Le ha messi qua ci sono due Sovrapposti Qua ci fanno bei punti Oh ma l'espo qua Qua lo prendo io Ma come No ma Vabbè siamo a 31 Oh ce l'ho fatta Bene 38 Nice Molto bene Eh beh Oh Sette Cinque Quattro Sette Uno Uno Bene Oh shit Si mette Quello di calcio Ah no al finale No No In 13 Ma quel cazzo Ok Ok vai Prova a restare più in alto possibile Ci sono altri tizi Che funzionano Oh ma Perfetto No 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 aiuto No No Piaciuto Dio Sì Sei morto No dai Sì Maledetto 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 Dai tu Massima No 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 Porco dio Porco dio Porco dio Non ci credo Non ci credo No sto gioco Non ho parole Perché sia infatti Che palle Perdere sempre Eh vabbè Ormai ci sono abituato Questo gioco Marcio Cristo Eh vabbè Se poi lui esulta Anche se perdi Non ha senso Vai Gli esagoni È possibile Vincere La sento buona Questa Ma qui Su È possibile Ah c'è Per telefono Ma se noi arriviamo Tutti e quattro In finale Ce la dobbiamo Contendere O la dà tutti A cui noi siamo Avversari Ah ok Porca miseria Qua non l'avevo mai presa L'elica No porco dio No Peccato Vabbè Vabbè Adesso mi trattengo Oh Meno male Ah no scusa Che devo fare Ah Ah Per poi rubare il posto Ti Eh Vabbè No perché io ho paura Che poi uno fa lo scatto Nello ruba Capito Però sì In effetti Vabbè Il primo round Sempre così Se ora mette un gioco a squadra Il gioco è impazzito Bravo Un cammin Un Oh Basta che non siamo nel tin giallo E poi Vabbè Nemmeno io ma ce l'hanno già rubata eccolo qua quello qua ho trovato ho trovato uno maledetto non dog va bene no 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 ma l'ho rubato l'ho rubato l'ho rubato l'ho rubato non mi sta inseguendo madonna no maledetto maledetto 36 no ladro no 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 sto bene sto bene ce l'ho già ok ce l'ho ancora no ladro ladro schifoso no 4 no 4 no 5 sì sì meno male meno male che ha perso ah ovviamente ovviamente mi immagino quello che sta rosicando poveretto va beh qua ce ne sono due va beh dai qua ce ne sono due io dico cocomero secondo me dal cocomero no pesca hanno perso gli altri cosa spinge questo banana pesca uva si banana pesca no c'è anche dov'è l'uva qua 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 c'è la luva ok eh vabbè qua mi son perso si mette l'arancia ok qua c'è la banana finita bene 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 ora metto e guarda è un survival per forza nooo nooo te l'ho detto che te va vabbè un race vabbè come fa una mongolfiera a sorreggere tutto quello no già morto andiamo male vado male vado porca miseria vado vado ma perché spingono loro vado oh madonna non cadere no tronco di merda tronco di merda no non mi qualifico per colpa del tronco banana di merda no 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 per favore porco dio porco dio porco dio vaffanculo no non ci credo non ci credo non ho parole non ho parole ma guarda te se non ho parole non ho parole quel tronco di merda quanto lo odio quel tronco vabbè tanto era un finale questo quindi penso mamma mia non c'è questo troppo buono troppo buono ecco mi va no si è bangato stai messo bene con la quattordice no l'ha preso lui l'ha preso lui no dai stai messo bene 26 vabbè mai blue dai stai tranquill i blu i blu hanno perso ormai però che non viene il dorato ma è vinto è vinto è vinto è vinto qualificato è si è si 12 beh mi sa che non le mette il monte potrebbe metterlo il monte potrebbe metterlo il monte piaggio vai tutto adesso è il monte è il monte troppo poco il monte cosa? ah un altro non andare per primo segui gli altri segui gli altri come fai? ah davvero? cos'è sta cosa? cos'è? è un chip? cosa? vai 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 l'ho trovata segui loro segui loro stai con loro stai con loro ah no però 7 7 posti vai 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 adesso rischia no 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 vai 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 forse 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 aspetta 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 supera 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 ce l'hai fatta grande grande che culo giusto in lì no guarda le code le code le code le code le code o il monte va a mettere un gioco a squadra guarda ecco vamo è dura però i 7 se ti camperi bene potresti farcela occhio 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 perfetto perfetto però è bagato bagato tutto ma stai messo ma si cammina 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 occhio 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 che dopo c'è un bug non lo saltai non lo saltai cammina 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 fidati fidati vai così cammina normale vai vai butta giù tutto butta tutto giusto piano guarda vai madonna questo dinosauro di merda oddio c'ho ansia per te godo grande ok bravo ma come fanno a non essere ancora eliminati qualcuno è impossibile no 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 occhio 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 no 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 corre 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 tu no ottio sei bordo eh 2 3 4 no no No, no, peccato Madonna Però ci sei andato molto vicino Ci sei andato vicino Peccato Cosa sono sti cose? Cos'è questa? Che botte sciocca Non la compro neanche Ma era la tua prima se vincevi? No, va bene Ma adesso secondo me capitano le cose e ci siamo solo noi in finale Così Qua finisce tutto Ah, è un bel Prima Vai, che si abbassa Uh, bene Qualificati Va bene Bene, bene Va bene, la prima Prego Ancora In effetti Team blu Team verde di nuovo Poi rubo le coda questi Oh madonna Oh eccolo qua Questo vuol No aiuto Vieni qua No siamo messi male qua Vai 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 questo qua è nostro No cavolo No No Ma siamo messi male qua Ho preso una Porca Siamo a due Cazzo No dai Tre Dai se riesco Dai ne ho una Ne ho una Cos'è? C'è il tempo Overtime Dai 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 Qua 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 La Round lupo 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 parte rubata rubano che non ci credo ma perché quello l'arola ruba non deve mettere il gioco a squadra solo survival race e basso l'arola troppo buono ma sai perché io ti racconto io avevo un canale vecchio che aveva una media di 100 spettatori fissi però ho insultato varie vabbè lasciamo stare e mano bannato che ho violato le norme ho insultato i trans testimoni di geova dicevo le battute sono incazzati però vabbè sì sì o madonna questo gioco logica ma bisogna che tutti vadano sopra questo visto che ho detto un piccolo neri madonna non so come fai x x x non lo so no non cadere non cadere non cadere palla di lardo porca miseria porca miseria oh mio dio no secondo me mi sa che anche io non riesco questo troppo indietro no c'è troppa gente non so eh speriamo speriamo oh mio dio sto cosa eh non lo raddrizzano perché c'è quel lupo che non capisce niente vabbé dai vai beh 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 non ho parole dai dai ai dio mio Niger forse 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 oh meno male vai 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 cavolo ma quel gioco sai quante volte gioco è stato creato proprio per il male si 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 c'è stato proprio creato per male agente di sto periodo già stessa ancora ma basta stop tinting tag basta guarda ovviamente squadra verde non c'è neanche bisogno di chiederlo no gioco blu blu forse rossi bello già la coda sono no si scappo 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 no aiuto qua c'è un cactus oddio sto tucano giallo mi stessi a quello tucano maledetto è uno dog è che non lo torno degli odio guarda ma rubato a roba un furri do io davvero io un giorno sterminerò i tucani giustamente gli sterminerò tutti o no o presa ok dai 15 no perché se c'è un pareggio un casino se c'è un po' no il nuovo no maledetto meno male vediamo ora no oh ma lo fa gli stessi lo fa apposta poi metterà gli esagoni di sicuro mamma mia mi ha fatto per il male vabbè è vero meglio meglio eh non ancora oh madonna oh madonna miseria ma poi peggiorato il livello di difficoltà è peggiorato di brutto peggiorato di brutto queste banane madonna madonna dai come eliminato no veramente basta 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 non ho parole vado a demolire una chiesa domani perché veramente no no veramente eh sant'anna no meglio l'altra che c'è il parroco ricco si merita un po' io sono da Liguria oddio qua potresti farcela vai 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 stai dietro stai dietro stai dietro che ci sei ok ok io sto si fino alle 3 penso ah l'altra volta lasciamo stare e io stavo morrendo l'azienda ne risente se uno non è soddisfatto sei qualificato troppo buono se no non no 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 a vera volta lo fa e cattiveria lo fa ma perché siete dieci l'ha fatto apposto fa fare le code se vinci ti fa fare le code te lo dico tu sei il dinosauro dopo portiere c'è 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 ma la prova a fare gol no ma dai o libera e libera e libera e libera e libera ma è libera e libera e libera e libera vai 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 ma non ma non entra ci vuole lubrificante o no spera e non essere oddio cos'è sta cosa non mai visto no vai 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 se lo fa entrare vai infila quell'uovo dai piano infilano infilano rinfilano da dove è uscito rinfilano dove uscite dai su dai su vabbè chi se ne frega tu fetti l'uovo dentro mettilo dentro mettilo dentro e dice dai 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 piccolo dentro piccate lo dentro piccate lo dentro dai mettetelo dentro mettetelo dentro non ci credo maledetto uovo domani vai a uccidere una gallina buona notte ciao grazie mille grazie mille alla prossima ciao grazie mille ciao ciao a cui rimaniamo magari rimango solo io quindi rimango solo io al party lo abbandono ma se rimango solo io ok dopo questa devo vendicare le persone che sono state sconfitte quindi adesso tutti i ducani furri robot o dog i miei simili sterminati adesso si gioca seriamente e si punta alla vittoria una vittoria questo gioco già già lo sappiamo si mette il gioco delle code ho qualche possibilità però io sento che se siamo negli esagoni pochi ce la posso fare vinci per noi assolutamente sia alberico assolutamente sì adesso devo vendicarti adesso vi vendicero ok sti concorrenti qua giocano così senza significato ma io adesso qua sono qua per vincere con un significato diciamo per te grazie mille nevio grazie mille e porca miseria molto bene molto bene molto bene ok va bene non importa ma niente ok dai dai vai così va bene ma qua il trucco andare dove la porta si alza perché poi si abbassa subito in cui mi si salta e qua qualificato per 1 e 4 1 e 4 1 e 4 mi sa che questo non ce la fa non ce la fa mi dispiace molto per me ma è troppo per me ma per me no io devo vincere quindi addio ok 41 rimasti quindi ora metterà sicuramente il gioco delle code il gioco delle code sicuro mettere il gioco delle code perché ormai si è affezionato a quel gioco il gioco stesso e sarà la fine dai gioco delle code ci scommetto no il gioco delle porte va bene ok se tutto va bene dovrei riuscirci se tutto va bene ok se nessuno si è spinto se non si assemblano troppi in un punto questo gioco dovrebbe andare bene anche se sinceramente io li vedo un po agguerriti questi giocatori non vorrei che ci fosse qualche città la vedo dura secondo me questa porta si apre ecco qua eh no via da qui ok ha aperto la porta lui mamma mia lo sapevo lo sapevo guarda 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 uh che culo non sono finito nell'assemblamento stranamente mamma mia no 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 alza 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 non arrivano no mi sa che qua c'è un cheiter no non c'è un cheiter o è il dinosauro che sa tutto no non è un cheiter meno male dopo vi leggo dopo vi leggo un attimo solo grazie al verico un attimo solo un attimo solo un attimo solo vai 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 per favore vai per favore per favore in teoria si va fittato bene assolutamente si l'abbiamo infilato per bene non sono tucani come non sono tucani e che cosa sono quelli comunque adesso gliel'abbiamo infilato per bene a quelli che hanno perso seconda siamo a due siamo a due siamo a due 30 qualificati va bene ora un gioco a squadra di sicuro metterà la coda se non survival oppure il race di prima secondo me survival secondo me survival team ovviamente non team giallo vedete poi si fanno le belle cose si fanno le belle azioni e poi il gioco viene rovinato così cioè se no team giallo vengono a rubare le uova ovviamente ma era log c'era anche da chiederlo ma al verico ma c'era anche da chiederlo è loggermente sto gioco un gioco stesso si diverte a prenderti per il culo vabbè l'ho infilato lì dentro mi sembra oh maledetto rubo questo uovo spiccia ai stessi vabbè dai ma già vengono a rubare ma stai buono ma stai bastardo figlio veramente veramente guarda 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 che roba 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 come rubano un uomo ovviamente questi là oh eccolo qua dov'è 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 dammi vai 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 minchialato questo qua è rugby questo qui ok aspetta siamo in 17 allora me ne frego allora me ne frego proteggo le uova da questi bastardi no vai via vai via scemo 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 basta 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 voi mettete figlio bastardo figlio figlio illegittimo figlio illegittimo ok 16 vengono tutti qua vai dacci l'uovo l'osso dacciolo qua dacciolo 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 per dentro per gli altri guarda ma che cazzo rubano le uova ma cosa volete dalla mia vita dai ma proteggete le vostre uova stupido stupido dai stupido 14 dai dai ma non ve ne va aiutare nessuno se ne sfregano tutti che tanto dai bastardo beni c'è di di sotto se ne fregano tutti dai 28 vi prego no bastardo dai dai no ci hanno rubato un uovo figa 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 vai aiutate aiutate c'è dai 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 12 11 dai proteggi il cactus attenti al cactus nuovo blu nuovo dorato nuovo dorato al nostri 5 4 3 2 1 6 succhiatelo manco a napoli rubano così ma infatti qualificato anche nel round delle uova allora tutto è possibile il team giallo ha vinto allora tutto è possibile godo il team blu era quello più infame questa partita comunque mamma mia no veramente 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 una cosa assurda tutti da noi poi dagli altri non vanno a rubare solo da noi vedi qualificati molto bene molto bene speriamo in bene adesso non dirmi non dirmi disconnect non dirmi disconnect porco dio 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 porco non me ne frega niente non me ne frega niente mi dispiace mi dispiace, ma io non credo più in te, mi dispiace io cambio religione, vedete, questo è il passaggio ufficiale, io cambio religione, porco Dio, Dio cane, porca madonna Gesù infame, ma che cazzo fai, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, ma io divento satanista porco Dio, ma porco Dio, porco diavolo, porca Maria, porco Gesù, dai non è possibile, vaffanculo, Dio cane Dio cane, porco, Dio maledetto Dio, porco Gesù ma Dio cane, Gesù, ma si può, ma porco Dio, ma porco Dio basta, basta, basta basta, 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 no, basta basta, no, no, basta, basta ovviamente il tigiano lo vince e ti espello, io a questo gioco veramente, basta, basta, basta basta, basta, non lo so non lo so, adesso tiro questa moneta se esce, testa ne faccio un'altra se esce, se esce l'uno non le faccio, poi accrocio vabbè, aspetta, non ho fatto neanche un giro ok, vediamo un po', ok, uscita testa vabbè è uscita testa però questa è l'ultima uscita testa cioè, non ho parole tu vinci, disconnect from the server ma vattene a pigliando il culo ma guardate boh sicuramente questo gioco sarà gestito da operatori napoletano barmi di socio mamma mia mamma mia sono io l'unico strozzo sono io l'unico che c'è l'operatore di merda dietro qua dietro che mi sta spiando dalla fotocamera e sta dicendo oh, non perdona di disconnetterlo dal server ah, così mi diverto così posso segarmi meglio disconnettendo e facendolo arrabbiare ma come si permette sto operatore veramente io adesso vado a fare querela querelleri un giorno se avrò la possibilità querellerò questo fatto non so in che modo troverò una denuncia io querelo io querelo io querelo io querelo io querelo io querelo io non vedo l'ora di querellare cazzo, veramente speriamo che arrivi quel giorno quindi quel giorno sarò io tra i due quello col cazzo duro quel giorno ma veramente ma guarda questo gioco scatena il lato più oscuro delle persone nel medesimo guarda non è possibile non credo chi vince secondo me infatti chi vince diventerà un essere divino avrà dei poteri diventerà Dio diventerà diventerà un Dio ma veramente guarda che roba ma comunque qualificati sono morto no qualificati sei un gran è troppo buono il velico ma io ce la metto tutta ce la metto 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 tutta ce la metto tutta però è difficile ancora una volta non manco se questa la vinciamo io diventerò una persona migliore e andrò in chiesa tutte le domenze tutte le domenze no dai non ne esageriamo una volta una volta all'anno andrò a Natale a Natale non di altre cose solo a Natale se vinco solo a Natale solo a Natale in chiesa vabbè qua ce la posso fare non è tanto difficile vabbè qua ce la posso fare ma io un'altra morto i survival sono terribili si riscono solo quando qualcuno muore e' un'altra morto ma io mi sono andrò in chiesa in chiesa in chiesa in chiesa in chiesa 5, 6, 6, 7, 8. Mamma mia. 4, 5. Questi qui me ci man�rono 10. 6. 8. 8. 9. eh ma 15 è un po' troppo effettivamente mi c'era tipo 12 10 11 un attimo che va qua la spingi dinosauro ok 13 14 e dammela capito molto bene qualificato ora non dirmi sempre il disconnect perché se no io non gioco a squadra si ma questo gioco qua adesso lui mi metterà nel team giallo a 100% se io lo vinco questo gioco qua se io nell'ipotefica occasione in cui lo vincessi scommetti che lui mi dirà disconnect from the server because you are madafaka mi dirà così mi dirà così e io dovrei semplicemente dire ok ma io non dico ok beh ora loro non sanno spingere pallone ma perché lo spingete storto ma perché storto l'oculista l'oculista ma perché frattatelo lasciatelo spingere a me siamo in vantaggio dai 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 Vai che va, 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 vai che va veloce, vai che va veloce, vai, 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 vai ha perso. Se ora dice Server Disconnect è una cosa del gioco, non è una cosa mia, non è una cosa del gioco. Lo fa apposta, lo fa apposta no, non puoi, non puoi. Ok, non può farlo. 15 qualificati. Quindi, dirmelo, no, dirmelo no, no dirmelo, no, no dirmelo, no, non dirmelo, non dirmelo, non dirmelo, non dirmelo, non dirmelo, no dirmelo perché non voglio vedere non cimeno perché non Non voglio vedere, no, 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 non voglio vedere, 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 non voglio più vedere, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, io non voglio più vedere, no, ok sto cazzo, ok sto cazzo, ok sto cazzo, ok sto gran cazzo, figlio di puttana, ma che è ok, ma porco Dio, ma porco Dio, lo fai apposta, lo fai apposta, con ex server, con ex error, Ma tua madre puttana! Dio porco! Dio porco! No scusa se dico dio porco! Diavolo porco! Cane porco! No basta basta io non dico ok! Io non dico ok! No io non dico ok! Io non dico ok! Io ok non lo clicco! Non lo clicco! Non lo clicco! Non lo clicco porco Dio! Non lo clicco porco Dio sto ok! Non è veramente succhiare l'uccello andate a succhiare l'uccello voi che avete creato questo gioco! neanche me lo fai cliccare ok! Neanche neanche me lo fai cliccare ok! Fammelo cliccare sto cazzo di ok! Basta! 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 Io vi ringrazio a tutti per la visione! Noi ci vediamo in un'altra live dedicata a Fall Guys! Grazie ragazzi per la visione! Ma è bloccato! Ma è bloccato! La cambusa di Mako è bloccato! Non posso neanche giocare! Che cosa faccio? Sto fermo qui? Ma non è che! Ma non è che! Dio mio! Basta! 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 Grazie a tutti per aver visto questa live! Domani purtroppo devo studiare perché ho un appuntamento con le impetizioni ma non riguarda perché l'azienda Pirapallo 2 non è disposta! 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 Grazie mille ragazzi per la visione! Noi ci vediamo come al solito domani con un'altra live dedicata a Fall Guys! Grazie mille! Buona serata a tutti e buonanotte! Ciao!